Inizia una e due giorni che è inserita in una tre settimane che deciderà chi vincerà il giro, chi sererà sul podio, chi vincerà le tappe saranno due giornate complicate ma del resto fino adesso non sono state passeggiate quindi non è che ci aspettiamo di non far fatica Magari l'obiettivo è ripetere quanto ho fatto l'anno scorso al giro, Ari in difficoltà e poi è emerso nelle ultime due tappe Magari con Biccezzo fare uguale oggi Ma sai non è lo stesso giro, non sono i stessi corridori ma Vincenzo Aruano scorso fece un gran finale, Vincenzo è in ripresa dopo qualche momento un po' più difficile e ora ha recuperato, non c'è niente a recuperare ma sta bene, sta meglio e può ancora succedere qualcosa di buono ma ci sono anche gli avversari che vanno molto forte Quindi fiducia c'è per oggi in Casastana Ah beh certo pienamente, pienamente fiducia